e' zitti oh il carro voglio provarlo ti do fuoco? no dai voglio provarlo esplodere pilota ieri è radiocomandati ci sono sicura la base è chioma figata ecco la pista ghiassa che controllo bene così a diritto agli ricordi ciao ghiassa farò un po' di quickie spara spara prendiamo le armi e poi la base è si cosa fai? smetti subito di sparare scusa si scusa scusa ero troppo mano di lei no scusa che vers ung Sì, cugina. Sì, cugina. Qua che armi hanno? Aspetta, questo è più bello. Ok. Arrivo. Ah, ero due prossimi. Perfetto. Ancora? Facciamo bruciare questo. Qual è l'obiettivo? Ok, fai sparare un po'. Sì, vicino alla chiara! Dov'è? Ancora? Alex, abbiamo altri aerei pronti. Ok. Ho capito. Dove devo andare? Eh, non c'è più niente qua. Sto a guidare. Orca troia. Atenzione! O merda! venito! No! 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 No, no! 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 No, no! No... No! No! arrivano via 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 questo è il cazzo ho capito l'aug cazzo madonna mi ha salvato il culo questo eh dammi questo sto prendendo i colpi cazzo vuoi ah ma fanculo va chi è? chi è che ne ho? prima armeria sicura ok no ammunizioni niente nada ah capo ascolta se mi metto qua sopra vai eeeh eh calma calma ehi di qua venite mi posso fare una lingua orca troia ok armen coprimi fatti fuori tutti ah forse dovevo fare squadra lui ok fatto 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 chi è? ma che stai sparando? scemo ok passeremo iniziale ah 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 ok, mi ero buone ah cazzo ah ma non c'ho occupato ancora adesso mi diverto ah scusa no che ho ucciso scusa bro non l'ho fatto apposta ok vai ti tiro sui o alex es Dicci che va bene Oh ehi Ah granate Sono ritornati Sono fuori Sono fuori Soldati Aiuto Oh ooooh supporto aereo lai per in arrivo mensagna in vista attacco in corso potete stare in troppo in arrivo tirare verso il pibbono fuori 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 dettate a... questi è un... Per il disgancio Ma non me ne frega Ok 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 Perfetto Io vi saluto di nuovo E ci becchiamo ragazzi Alla prossima Bella